Per l'ultima trasferta della stagione il Mazzalava d'Arbia fa visita alla Fortis Juventus e Bianco Celesti in serie positiva da sei turni, Bianco Verdi che non vincono invece da cinque partite, al primo minuto già i padroni di casa in avanti con la deviazione sottoporta di Bruni, Cefarello blocca senza problemi al diciassettesimo, Silvestri lancia in avanti, Bartolini fa la sponda per Baroni che si infila in mezzo ai difensori, calcia con il destro, non è il suo piede e i Bianco Celesti sono in vantaggio al minuto come detto diciassette, il sesto gol in campionato. Per Diego Baroni che sblocca una partita molto complicata con un Mazzalava d'Arbia molto rimaneggiato, due minuti dopo ci prova sul calcio di punizione, Gualandi sfera sul fondo, Bianco Celesti che si rivedono dall'altra parte dopo un pallone conquistato da Mearini che serve Maiuri, il tiro però di Mancino è debole, Pettinelli para, ancora Mazzalava in avanti con questa conclusione al volo di Bartolini, bella, Pettinelli para. Poi sembra una fotocopia della punizione di prima, questa volta va Serotti, fallo di mano di Maiuri, non ci sono dubbi per l'arbitro, è calcio di rigore, viene anche ammunito Maiuri. Bruni come all'andata fulmina il portiere, allora era Masiero, questa volta è Cefarello, il risultato non cambia, ed è 1-1 al Romanelli. La Fortis che pareggia con Bruni, il Mazzalava d'Arbia si rivede poi nel finale di frazione con questa clamorosa occasione per Cruciani, mandato in porta da Mearini con l'esterno destro, colpisce in pieno la traversa. La palla ritorna in campo ma l'azione sfuma nella ripresa, Mazzalava d'Arbia che entra molto deciso in campo, quest'azione personale di Cavallini sull'auto di sinistra che salta tutti, rientra sul destro, non è il suo piede ma ne esce una conclusione molto complicata. Che Pettinelli vedendo dall'ultimo riesce lo stesso a mandarla in corner, bianco-verdi in avanti con il capitano Serotti che gira su se stesso, calcia con il mancino. La palla però sfila sul fondo, questa è l'occasione migliore per la squadra di casa con Cefarello che si inventa questa parata su Pezzati, veramente un colpo di Reni decisivo. Poi Cruciani manda in avanti Mearini che fa sponda per Bartolini, calcia, botta sicura la difesa in qualche modo, riesce a rimpallare, era un'ottima occasione per gli ospiti. Al 65esimo Mazzola che torna in avanti, punizione deviata di Cruciani, si infila con la testa Nassi che trova il secondo gol in campionato. Il terzino destro riporta in vantaggio il Mazzola-Valdarbi anche meritatamente per quanto visto nella ripresa. Bianco Cilessi che sfiorano il Tris, Nassi serve Cavallini sul secondo palo, tiro al volo, Pettinelli si supera e manda la palla in calcio d'angolo. Dall'altra parte prova a farsi vedere anche la Fortis Juventus, Zoppi mette al centro, Paternò arriva però di testa, palla debole centrale, Cefarello para. Bianco Verdi che comunque vanno vicinissimi al pareggio all'ottantaduesimo con ancora Paternò che calcia, si supera Cefarello con l'aiuto del palo. Palla che poi torna in campo, non c'è più tempo. I biancocelesti con un'altra ennesima grande prova della stagione espugnano il Romanelli per due reti a uno. Restano ancorati al quinto posto, adesso finale trilling contro il Pontassievi al Ceccarelli il 16 di aprile.